Buongiorno, allora continuiamo da dove eravamo arrivati Una volta mi dispiace per averla prima, primissimi episodi ma è stata così Allora Ho preso La prima mezzaluna Da sinistra Andiamo a destra D'altro c'è l'albero che non sono riuscito a trovare come entrarci Allora Si parte Dalle nuove Ok, qui c'è qualcosa di importante Allora 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 Non ho ben capito Oh, 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 oh Non me lo dire E contro qualunque legge della dinamica Allora Oppure me l'accollo Sono lì giù Testa Unici Ho visto Dove sono? Eh no era nello stesso punto Mi ha fatto Ah mi ha fatto chiedola Questo Quindi ero lassù Ok Andiamo giù Ehi Dai non si vedeva Ah qui è quando mi mostra Ok Sono lì Qui chiaramente non posso risalire Vado qua E sono qui sotto Vado qua Sono qui a sinistra Salgo Qui posso salire Sono certo Salgo E sono qui E che me lo so dire Salgo E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa Scegliamo, scegliamo. Anche perché devo andare tipo a destra. Scegliamo. Se loro avessero messo anche solo una. Un tasto di corsa. Non mi sarebbe disposto. Ok, poi arrivo lì. Ah, potrei andare da lì su. Se si, non mi ha fatto un tocco. Oh no, devo andare da lì su. Lo devo rifare. Perché mi dai il potere. Quanto grande. Siamo qui. Sono qua. I roso elefanti. Vanno. Quanto grande. Quanto grande. Ah, ma c'è il pangu. Perché non serve. Quanto grande. Quanto grande. Quanto grande. maðurra, verndaripi frastar Ok. Posso risalire? E lì come c'è? Eh, serve. Ah, temerò che serve io. Come vado? Ah, no. Non mi sono saluto. Ah, come ci vado? Si scende. No, questo non serve. È finto. Ah, no. Eccolo vero. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Grazie a tutti What the fuck Grazie a tutti Non è finto per risalire Grazie a tutti 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 Grazie a tutti